Le notizie e i dati non muovono i mercati. Ciò che muove i mercati sono le aspettative su queste notizie e su questi dati che escono. Siamo su Yardforex, io sono Arduino Schenato, mi conoscete bene. Per chi non mi conosce, Price Action da ormai tantissimi anni. In questo canale ovviamente tratto esclusivamente tematiche legate alla Price Action, quindi allo studio dell'andamento dei prezzi per fare trading. Su Forex principalmente, su indici, sull'oro, sul petrolio, sulle principali azioni per esempio. E il tema di oggi è proprio questo. Io facendo Price Action e cercando di divulgare un giusto approccio consapevole al trading attraverso la Price Action posso confermare, anzi posso affermare che dopo così tanti anni di trading e anche di trasmissione, insomma, di un messaggio educativo didattico a chi mi segue posso affermare che le notizie e lo studio dei dati serve molto poco nell'ottica di trading, stiamo parlando. Quindi operatività di breve, medio termine, da qualche giorno a qualche settimana. Infatti il telegiornale, la notizia più vera, a mio avviso, per la mia esperienza, è sempre il grafico, è sempre il dato di fatto, quello che il mercato in effetti ci dice. Perché? Perché il mercato è mosso da come partecipano i player del mercato, da come si muovono i player del mercato. Non da esce un dato e allora il dato perché è positivo deve magari far aumentare il valore di un asset o perché è negativo lo fa diminuire. Perché dipende tutto dall'aspettativa di quel dato e da come i players del mercato parteciperanno rispetto anche a quei dati che possono fare o meno da market mover. Io voglio farvi un esempio, prendo il grafico questo qua di euro-dollaro che vi metto qui alla mia destra e potete notare come il grafico, che in questo caso è un settimanale di euro-dollaro, ci mostra un andamento assolutamente ribassista in praticamente tutto il 2021 e una buona parte del 2022 e poi c'è un cambio di tendenza che è questo. La tendenza è stata dovuta a qualsiasi cosa ma quello che il grafico ci dice, ce lo dice subito, immediatamente, in una settimana, ci conferma questo movimento al di sopra della media di breve periodo, al di sopra dei massimi precedenti, fa cambiare nel breve termine una certa dinamica. Quindi io che faccio trading ovviamente devo essere, come dire, devo essere conoscitore, devo capire cosa sta avvenendo e devo cercare di utilizzare le metodologie di entrata o anche di rimanere fermi a volte che mi dice il grafico, che mi dice il prezzo. Andare a reagire in base a ciò che posso pensare possa uscire perché c'è il rialzo dei tassi di interesse, perché invece magari non lo rialzano, perché il governatore della Banca Centrale Europea dice una cosa, quello americano è un altro, è perché i gestori cambiano da value a growth e tutte queste menate qua, da un certo punto di vista, anzi dal punto di vista del trading, non servono a nulla. Anzi, non è che non servono a nulla, fanno ancora peggio, tendono a svantaggiare il trader, tendono a, come dire, a creare più confusione, meno lucidità, meno sicurezza e quindi quando si fa poi un certo tipo di trading diventa un trading confusionario, un trading insicuro e spesso queste dinamiche emotive portano a un trading perdente, un trading non profittevole e da lì un cane che si muore la coda perché poi il trading, il trader che è non profittevole, il trader che è poco costante, il trader che si crea tra l'altro da solo della grande confusione, della grande insicurezza, inizia a farsi, no, delle, come dire, delle riflessioni dicendo magari non sono adatto a fare trading o magari, oppure va in cerca di mille metodi quindi va a cambiare strategie su strategie. Tutte cose, tutte dinamiche che sono avvenute a moltissimi trader che io negli anni ho conosciuto facendo anche formazione, facendo i miei servizi didattici, fate conto che con IR Forex siamo attivi dal 2010 con un sito, in realtà un paio di anni prima con il blog, quindi è da tanti anni anche che mi confronto con altri trader e vedo più o meno sempre le stesse dinamiche che portano a non essere profittevoli. Una di queste secondo me è proprio l'argomento di oggi, cioè il fatto di, sì, faccio i grafici ma comunque guardo il calendario economico, ascolto che cosa dice questo e ascolto che cosa dice l'altro e ascoltare questo non è che sia il problema, il problema è che non si riesce a scindere il fatto che quello che può dire un banchiere centrale, quello che può essere un dato, poi non dobbiamo apportarlo nel trading, non deve farci cambiare la nostra idea sul trade, perché altrimenti poi partecipiamo al mercato sempre con un certo pregiudizio, un pregiudizio sbagliato voglio dire, perché? Perché non siamo scevri e neutri guardando esclusivamente il grafico e questo è un problema assolutamente comune, lo vedo in generale, lo vedo e lo continuo a vedere anche nei giorni attuali, nei giorni nostri, che basta girare un po' qualche community o qualche video YouTube o qualche trasmissione legata proprio al trading, al forex, alle azioni, insomma ai mercati, è noto che c'è sempre questo boom boom martellare di ah ma se dice questa cosa, se il dato esce così, chi se ne frega, i partecipanti al mercato si faranno vedere come si muoverà il mercato, il prezzo si muoverà in un certo modo e io cercherò di trarre vantaggio da quello che mi dice il prezzo fino ad oggi, nei giorni scorsi, nelle settimane precedenti, fino ad oggi e da lì se mi darà delle informazioni che sono in linea col mio metodo di lavoro, potrò andare a fare del trading, questo è. Quindi il motivo per cui non traderò mai le notizie, il motivo per cui non traderò mai i dati macro è proprio questo, creano svantaggio, non creano vantaggio al trader. Se ovviamente siamo in grado di leggere le dinamiche di price action, di leggere quello che ci dice il grafico e più o meno vi posso assicurare che un po' di conoscenza su questo ce l'ho, allora non ci serve altro, anzi essendo che l'altro ci svantaggia teniamo solo ciò che ci può portare un vantaggio competitivo nei grafici e nel nostro trading quotidiano. Anche per oggi è tutto, vi chiedo di lasciare un mi piace su questo video se il video vi è piaciuto, di iscrivervi a questo canale se non siete iscritti, di attivare la campanellina se non l'avete attivata e di dire a tutti i vostri amici, alle community che conoscete del trading, di seguire questo canale perché parliamo di price action e parliamo veramente di trading, di trading reale, con soldi veri e senza dire cose che fanno solo marketing ma poi da un punto di vista del trading in sé non contano nulla. Bene, grazie a tutti, un saluto, vi auguro un buon Trading Simple, Arduino Schianato via Forex. Ciao.